bene oggi buone cose vi riporta a san pellegrino in alpe dove si è svolto un convegno organizzato dall ente parchi emilia centrale e da altri soggetti coinvolti nei percorsi delle antiche vie e durante questo convegno si è parlato appunto del cammino del turismo slow di tante belle cose di tante buone cose vi presento subito è proprio il caso di dirlo la padrona di casa vanessa verrucchi architetto benvenuta a buone cose grazie padrona di casa perché abita qui a san pellegrino in alpe giusto per scelta benissimo allora noi quando abbiamo realizzato i contributi visti nelle scorse puntate di buone cose abbiamo accennato a san pellegrino in alpe vogliamo capire che luogo è questo perché era in passato per i pellegrini di un tempo e lo è oggi per i pellegrini moderni ovvero proprio crocevia certo è è un piccolissimo borgo il borgo più alto posto nell'appennino ancora abitato siamo rimasti effettivamente in pochi però noi ci teniamo tantissimo ed è un enclave cioè un'isola amministrativa modenese in territorio lucchese perché è questo perché san pellegrino è sempre stato un crocevia di vie di passaggio c'era il cambio dei cavalli è sempre stato un luogo dove si si trasmetteva da una parte all'altra e tutti ha sempre voluto un pezzettino del paese per cui in qualche modo il paese è stato diviso tra questi due comuni toscana in castiglione ed emilia in frasinoro ok tra l'altro 1500 metri sul livello del mare proprio il più alto di tutti e quindi qui parlate un po l'accento roscano e un po la cantilena emiliana la mia famiglia è qui dal 1200 come avamposto per gli ospitanti erano armati per gli estensi perché qui è sempre stato arrivavano gli estensi perciò qui in questo punto ci doveva essere sempre un presidio un presidio sì di fatto per fare un esempio non proprio corretto siamo come san marino e la città del vaticano no in terra italiana su cui si parla di regioni e di province ma in terra italiana due nuclei che sono sì perché diciamo il confine naturale di solito viene diciamo architettonicamente o ambientalmente preso i crinali le punte dei monti qui col fatto e per cui il confine è così però essendo modena sempre stata qui a san pellegrino ha creato questa isola perciò è un modenese in territorio lucchese e che cosa si vede qui a san pellegrino tanta storia il santuario di san pellegrino e san bianco un bellissimo museo un bellissimo museo tantissime camminate con la neve a piedi trekking qui ci si viene per rigenerarsi per riflettere è luogo di culto importante ci sono pellegrinaggi che durano da 200 anni addirittura il comune di toano viene l'ultima domenica di maggio a piedi come voto a piedi fino a san pellegrino da toano che guarda caso in parte copre la via matildica del volto santo che è appunto il percorso che veniva fatto certamente vanessa allora le sa tutte perché l'architetto verucchi vanessa è architetto appunto come come ci diceva lei abita qui con la sua famiglia dal 1200 poi è più giovane architetto verucchi domanda cos'è quel murales che è stato inaugurato tra l'altro da pochissimi da pochissimi giorni chi l'ha fatto allora il progetto è finanziato da ed è stato deciso dal lente parco emilia centrale nell'ottica di sviluppare tutte le vie di pellegrinaggio e a san pellegrino appunto ne passano tante la vandelli la bibulca la matildica del volto santo il cammino di santa giulia ci sono un sacco di vie e questo murales ha voluto ripristinare un vecchio murales che c'era negli anni 20 quelle cartine bianche dove venivano solo posizionato i grandi nuclei noi invece abbiamo abbiamo pensato come parco di inglobare le le vie e oltretutto non solo i nomi ma rappresentare con un disegno grafico i vari centri i nevralgici all'interno del territorio c'è tutto quello che in quest'ambito emilia toscana rappresentano la bella italia beh in questo murale si è presente naturalmente anche una via davvero storica che è la via vandelli giulio ferrari è anima di questa via benvenuto a buone cose giulio grazie che noi in parte nelle scorse stagioni di buone cose abbiamo percorso perché il tracciato della vandelli riprende anche quello della via romea germanica imperiale che chi ci segue da casa ha seguito a tappe nel suo evolversi in territorio emiliano questo è un percorso che parte da trento arriva ad arezzo siete amici con le vie cos'è la via vandelli cosa rappresenta e perché è un percorso così importante la via vandelli è una strada settecentesca e secondo me questa la rende veramente unica è un po la strada dell'illuminismo a me piace definirla ma credo di avere ragione la madre di tutte le strade moderne è una strada che nasce nell'ambito del ducato estense all'inizio del 1700 quando il duca francesco terzo tramite un accordo matrimoniale riesce a riacquisire per il ducato di modena un accesso al mare non più sul mare adriatico come era ai tempi quando capitale era ferrara ma sul mar tirreno organizzando il matrimonio tra il figlio ercole terzo e l'erede del ducato di massa maria teresa cibo malaspina e lì ha un'idea veramente innovativa rivoluzionaria per l'epoca cioè di costruire una strada lastricata carrabile che unisca la capitale modena con il mare adesso per noi dire carrabile sembra una cosa normale ma carrabile per l'epoca voleva dire pronta per accogliere i mezzi di trasporto più moderni cioè i carri per il trasporto delle merci e le carrozze per il trasporto delle persone e in carica il suo più importante cartografo ingegnere nonché professore di matematica dell'università di modena domenico vandelli di progettargliela e realizza un'opera veramente straordinaria carrozzabile e posso dire che era dal tempo delle strade romane che non si progettava non si studiava il territorio per progettare una strada e quindi è veramente una strada affascinante fin dagli albori certo ed è una strada che è stata percorsa in passato poi logicamente è arrivata la viabilità forse più moderna no le famose nuove direttissime le autostrade eccetera eccetera ma è una strada che sta ritrovando davvero tanti tanti camminatori oggi perché la via vandelli ha tanto successo in parte credo proprio il merito sia del fatto che chi cammina cammina su una strada vera tanti connettono luoghi importanti ma su percorsi un po diciamo artefatti anche in senso positivo invece la via vandelli ha questa peculiarità che i viandanti ripercorrono una strada vera e questa sua aurea leggendaria se la porta dietro io sono nato sulla via vandelli a montale poco fuori modena e quindi per me è sempre stata la strada di casa e nel 2016 quando stavo per compiere 40 anni invece che andare a fare una festa al mare ho deciso per i miei 40 anni voglio ripercorrere a piedi tutta la via vandelli e mi sono messo a ristudiarla e facendo questo un po ricollegato tutti i punti che erano alcuni tratti noti ma altri erano un po scomparsi poi ho messo a disposizione online le tracce e la storia il fascino di questa strada ha fatto il resto le persone seguendo prima le mie tracce poi la guida che ho scritto per terre di mezzo si è messa in cammino e nel giro di pochi anni dal 2017 quando l'ho camminata io 2018 le prime persone siamo arrivati nel 2021 a qualche migliaio di persone e sono in costante aumento il 2023 è stato l'anno in cui sono arrivate più persone 2 3.000 4.000 è difficile dirlo ma credo che l'impatto si veda sul territorio qui bisogna metterci sì di impegno chi sono i camminatori della via vandelli è una strada impegnativa è un cammino impegnativo i camminatori della via vandelli iniziano ad arrivare da tutta italia ma anche dall'europa quindi sono persone che hanno la passione dei cammini dell'escursionismo che è un attrattore turistico in fortissima crescita con secondo me un interesse un po per la storia per la cultura e la via vandelli ne è ricchissima ma anche un po per l'impresa perché poter dire ho fatto la via vandelli è un po una medaglia che si può mettere perché si attraversano due volte due passi oltre 1600 metri qui sopra a san pellegrino il passo del lagadello e poi alle nostre spalle sulle apuane il passo della tambura entrambi a 1620 metri è un cammino che ha più di 5.000 metri di dislivello totali e si attraversano anche le apuane che sono tanto belle quanto faticose quindi è un cammino veramente impegnativo e ricco di soddisfazioni è un crescendo si parte dalla pianura e per me questo è importante perché cammini fanno sì che le persone camminino anche sul percorso natura del tiepido venendo da lontano che è una cosa strana ogni tanto mi sento dire ma perché dovrebbero camminare qua camminano qui perché qui è la via vandelli che li porta fino al mare io li definisco viandanti è una strada un cammino laico e non sono pellegrini nonostante si attraversino tantissimi luoghi religiosi sono persone che fanno magari un cammino tutti gli anni altre che ne fanno anche di più e ci sono anche persone che si avvicinano al mondo dei cammini per la storia della via vandelli l'hanno camminata da famiglie con bambini di 6 7 anni fino a ultra settantenni c'è chi la fa il tempo ideale sono una settimana sette giorni ma c'è chi l'ha fatta quasi di corsa in tre quattro giorni e c'è chi ci ha messo due settimane quindi anche con calma ma questo ci dice una cosa interessante per il turismo che farli in due settimane vuol dire che ci sono ospitalità per 14 tappi certo certo e questo ci racconta qualcosa di quello che sta succedendo nel territorio delle piccole ospitalità che riaprono di quelle che si convertono quindi insomma secondo me è una bella trasformazione del territorio che sta avvenendo certamente ed è un piacere parlare di cammini storici in questo caso con persone che hanno sempre il sorriso sulle labbra perché ti dà entusiasmo ti dà carica ti dà positività e ti dà l'idea che insomma si può fare no sì sì i viandanti sono belle persone un bel turismo perché persone che si mettono chili in spalla e partono per una settimana di viaggio sono persone che hanno un approccio aperto e positivo verso gli altri e verso il territorio giulio ferrari grazie per essere stato qui con noi a buone cose a parlare della via mandelli grazie dell'ospitalità e termina qui questo nostro appuntamento settimanale con le brave persone che fanno le buone cose camminare è una buona cosa noi ci rivediamo naturalmente fra sette giorni grazie a tutti